Dentro al mobile della cucina aveva nascosto un chilo di hashish, all'interno del divano invece una pistola semi-automatica con il caricatore pieno. E' così finito in manette un 31enne albanese clandestino con numerosi precedenti alle spalle senza un lavoro regolare. Il covo dell'uomo si trovava in via romana alle porte del centro aretino. Il blitz della squadra mobile di Arezzo rientra nell'operazione street drugs avvolta al contrasto del piccolo e medio spaccio sulle strade della città. Le indagini sono partite rispetto ad alcune segnalazioni che davano appunto questo appartamento come possibile zona di ritrovo di spacciatori e di assuntori. Nel pomeriggio di sabato abbiamo appunto monitorato il covo e poi siamo intervenuti identificando il soggetto e perquisendo l'abitazione. Dentro l'appartamento abbiamo trovato un chilo di hashish suddiviso in otto panetti e una bilancia di precisione. Proseguendo poi la perquisizione abbiamo trovato nelle pieghe del divano una calibro 22, una semi-automatica che è stata ovviamente subito sequestrata e che poi è risultata essere compendio di furto. L'arma era stata infatti rubata due sere prima da un appartamento in località Chiani assieme ad altri quattro fucili da caccia. Le armi non sono state ancora trovate, le altre, ovviamente però anche in ragione dei precedenti dell'albanese di 31 anni che abbiamo poi arrestato, non escludiamo possa essere in qualche modo riconducibile al furto. L'uomo accusato di spaccio, detenzione di arma illegale, ricettazione ed infine soggiorno illegale nello Stato. Adesso si trova ovviamente presso il carcere di Arezzo.